Sì, voglio fare una rombita per questa gente carica, guarda avanti. Grazie! Sì, voglio fare una rombita per questa gente, guarda avanti. Sì, voglio fare una rombita per questa gente. Sì, voglio fare una rombita per questa gente, guarda avanti. Sì, voglio fare una rombita per questa gente. Sì, voglio fare una rombita. Sì, voglio fare una rombita. Sì, voglio fare una rombita per questa gente. Sì, voglio fare una rombita per questa gente. Sì, voglio fare una rombita per questa gente. Grazie. Grazie. Grazie! 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 Grazie!